Ciao a tutte amiche, benvenute su Amiche di Smalto e oggi parliamo di un argomento veramente hot. Quali saranno gli smalti del 2021 dai colori fino alle tendenze della nail art? Quando si parla di nail art non a tutti piace ma in realtà ci sono dei disegni veramente veramente carini e si può giocare in un modo anche molto elegante con la nail art. Ma cominciamo subito prima con la nostra classifica dei colori più gettonati per la manicure del 2021. Al numero 1 non abbiamo un colore ma ben due colori, il mix rosa e nero. Un mix molto affascinante, un po' romantico, un po' dark. Come fare una manicure con questi due colori? Allora potete fare una manicure veramente semplice con la dot manicure, quindi fare una base di rosa, scegliete una bella tonalità chiara o verso il nude e poi potete fare una dot manicure ad esempio con dei puntini neri proprio sulla lunetta dell'uglia. Oppure potete addirittura sbizzarrirvi con una super nail art, in questo caso, ecco io ne ho un esempio, con le stelline rosa e nere. Quindi abbiamo fatto una base di smalto semipermanente rosa e poi abbiamo applicato delle stelline nere. È un connubio molto molto stiloso, carino e che vi consiglio assolutamente di provare. Al numero 2 della classifica troviamo sicuramente lo smalto verde, un colore che in questi anni si è fatta a molta strada e molto amato perché è un po' a metà tra qualcosa che arriva verso la primavera ma anche un colore scuro. Assolutamente da rivalutare, naturalmente bisogna scegliere anche la giusta tonalità di verde. Al numero 3 il caro vecchio smalto nero. La dark manicure continua ad essere di tendenza. Uno smalto assolutamente da rivalutare anche d'estate per la pedicure. Lo smalto nero è sempre affascinante ed è una scelta che molti stanno facendo in questo periodo. Forse perché d'inverno abbiamo bisogno di vestire in un modo più colorato, in questo periodo è un po' buio, allora la dark manicure sicuramente dà quel tocco di grinta ed eleganza al look. Un altro connubio che piace tantissimo è quello del grigio e il bianco. Due colori apparentemente primari ma che in realtà danno molta grinta insieme. Se poi volete fare addirittura qualcosa di veramente diverso, vi consiglio di puntare sul grigio e giallo, visto che il secondo pantone sono i colori dell'anno del 2021. E allora perché non provarli anche sulla manicure? Che fine ha fatto il Rouge Noir? C'è e c'è sempre. Il Rouge Noir è uno dei colori più amati. Sì, siamo anche un po' stufe di questo colore, ma ogni tanto ci vuole un po' di classicità. E verso l'estate assolutamente un rosso ciliegia che ritorna proprio in auge e quindi da provare. Alla fine della nostra classifica troviamo tutte le tonalità di smalto nude, nocciola, nude chiaro. Ecco, c'è grande voglia anche di avere le unghie un po' più naturale, quindi vi consiglio assolutamente di puntare su questo smalto, anche se può sembrare meno incisivo, ma in realtà è sempre sempre elegante e rende le mani molto affusolate. Naturalmente bisogna sceglierlo anche in base al colorito della propria pelle. E adesso passiamo alle tendenze per la nail art. So che molti di voi non l'amano oppure la trovano strana, ma in realtà la nail art fatta con dei piccoli tocchi delicati può essere davvero divertente per dare quel tocco di grinta in più al look. Riguarda la nail art vi consiglio sicuramente di puntare sul mix rosa e nero, potete giocare con la dot manicure oppure con qualcosa di più estruoso come con le stelline. E poi naturalmente potete davvero sbizzarrirvi con tanti disegni delicati e chic. Altra tendenza sarà la manicure floreale. Attenzione, non quei fiori grandi, vistosi, ma dei piccoli fiorellini da applicare sull'unghia. È un'idea davvero molto divertente e da sperimentare. Bene amiche, spero che questi consigli vi siano stati utili, così la prossima volta che andrete dall'estetista saprete su quali colori puntare. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale di Amiche di Smalto, così saprete subito tutti i giorni tutte le tendenze del momento e seguirci anche sui nostri canali social e infine il sito web amichedismalto.it dove ogni giorno trovate tante novità con degli approfondimenti sulla moda, bellezza e lifestyle. Ciao amiche, buona manicure!